Salute a tutti e benvenuti in un nostro laboratorio in dove noi parteremo a telli di ganto, teatro e arteblastiche con le idee che ci vanno nella scuola Zandresca e di Gorti. Un ringrazio a la maestra Frederica Moracioli per l'aiuto. Oggi, a Vabriguccia, abbiamo scelto una domanda che può avere paura ai nostri artisti. L'amo da portare in foresta. Chissà ciò che lo può accade, ma per un momento, pittocca a scegliere le nostre idee. Qual è che voleva odiare? E io! E io, Gantù! E l'arteblastiche? E io! Buona, andate subito in le nostre idee che i vostri professori aspettano, andate! Ecco, poi abbiamo avuto il nostro Vabriguccia. Salute a tutti! Salute, Francine! Salute, Pedro! Pedro Basqualini e Aida S, il nostro professore di teatro è soberamente contenta. E voi, ho le idee? Yeah, yeah! Sì, ancora. E beh, giusto appunto, Pedro. Se noi cominciamo a presentare queste idee? Allora, prima, vai già presentare tutte queste idee, ben intesa. Allora, è oggi e con noi, a nostra comediante Giulia. E poi, abbiamo nostro amico, Dume Carlo. E qui, giusto accanto a me, Filippo Maria. E per compie, nostro amico, Luca. Allora, soberre artisti, queste idee-li. Allora, ci vuoi spiegare a Panna come usano abbassare il sattelio di teatro? Allora, sai che in questa scaduletta abbiamo parole che ci la mette in dei a nostra storia. Dunque, prima, ci lascio le parole. Ah, che di interessante, mi piace. Allora, piate per una parola. Anoka. E chi dice Anoka? Un'ambiente endemica che cresce da oledore alla montagna. Allora, un'altra parola. Ularige. Il fior buru magnifico. E ma, chi sape da un'altra parola, Rige? Vos avusti direi compie. E sicura che diciamo compie. Di opino gorsi di nostri vorretti. Allora, un'altra parola. Un'anno. Un'anno? E chi dice un'anno? Un'amucho. Un'altra parola. Un'amucho. Allora, un'altra parola con compie. Un'altra parola. Un'altra parola. E' proprio buona, un'altra parola che ci vuole sempre io. E poi, ma mi piace un'altra parola. Djeber, a watcho a trovare i costumi. E' un'altra parola, dice. E' un'altra parola che ci vuole sempre io. Allora? Ti ne bella fara, Rige? Mostra. Ehi, ehi, questo berretti non posso fare un'anno. E oggi non ho così un simicazone. E io posso fare un personaggio questo capello. Ti vuole una strega, no? Sabete gioca a dio un paio ispitiate e besa strega. Guardate qui è magnifica strega. Bellissimo. Allora, sabete gioca diavava, perché qui c'è udrawaio qui mi... Non? È udrawaio. È sicura, è udrawaio. Mi ne scappo zubidu, zubidu, all'atelo i gand... ...gu'o nostro garo vannuki ma spete. Travallate là! Allora, bello, Francine. Allora, bellissima. Allora, bellissima. Mi ha colè bego. E, e, Fanu. Mi drega o allora di ridruati da boi a nostra gandtuneta. Qui piége de segui con teo, Francine. Allora, prima di gomentio a datelo, mi presenti i apena i doganterini. I, e. Allora, qual è? Allora, abbiamo Stevan, Filippo, Sara e Carolina. Allora, hai visto prima che Udema oggi è avvoresta. Allora, qui cantona i scelto, du? Allora, per sudemma, ad uscerti una gandtuna di un gruppo Aviletta che si chiama Farandula, e su due da uisco mattiana e un'altra. Farandula? A gonoci? Bella sicura che a gonoci, ma mi barra appena i figli o l'eguessa gandtuna. Oh, penso mi che a quello si bo di così. Allora? Basta più appena i ridimu. Appena di ridimu? Mi, olli, va piagere. Avemo. Attacamo l'anturribilio. Un piu di gwezza l'anturribilio. Allora. Allora, cominciamo, se tu bolli. C'era barbino, barbette, barb... Bazza. Che t'accode? È difficile. Allora, rimuove e pieghe. Vabbè, andiamo. C'era barbino, barbette, barbazza, c'era... Non ci la faccio mica. No, è difficile. Sia non le parole, sia il ritmo. Oh. E come va? Stasente, travoi e rimapella l'anturribilio, Allora, travoi e rimapella l'anturribilio. Allora, l'articulazione, ma non solo. C'era travoi e rimapella l'anturribilio. C'era barbino, ma chi ne va dire? E' o' mica? E' o' mica. 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 Forse, che di appena di figlio, le. E' o' mica. E' o' mica. E' o' mica. Allora, travoi e rimapella l'anturribilio. Come andiamo, va bene? Iè! Iè! Allora, sabete che oggi, ademate che di un nostro programma, è a foresta. E per l'arte blastica, ad usceltu di va abitrava a ya, non tal animali che si buono drwa in foresta. Bi biagge li è, ah? Iè! Iè! Ma prima, lasciate mi presentabli ai nostri gari dell'ospedatore. Avemo Isaia, Maeva, Lugia e Sara. Allora, s'animale che bobeide gusti davanti, so fatti di legni. E so sta di gunti bidi a vab lab di gorti. Un'atelo in due luci va brega tanti uè la fare. Bi probongo d'andare a bere direttamente dell'atelo, come si basta. Siamo in una cittadina di gorti e andiamo al vab lab. Noemi ci aspetta per cominciare il rai. Prima, cerca un moello in tre dimensioni, non da un sito internet. E sceglie... Un'abba. Telegarca un moello in tre dimensioni, gissa dan carica di evorme. E poi vage una selezione di elementi e evorme damandà nantao logiziale di adaiadrige laser. E poi l'idocca fa l'importazione di ugartularo informatico. A oa, un ferme più che mette in bala da adaiadrige laser. E qui vorme, pilliano vorme. Il risultato è magnifico. Allora, in corti, abbiamo vato un'abba, ma qui è mudava come biji abri, ma l'animale diavoresta. E non abbiamo scelto quattro. Abbiamo scelto... Ubitho. Guardate così bello. Abbiamo scelto... Agirah. Abbiamo scelto di nuovo... Ugervo. Magnifico Ugervo. E poi abbiamo scelto di nuovo... Agolpe. Allora... Ora... Abbiamo da come per te, Sara. ك'è scelto di nuovo? Agolpe. Agolpe. e può arrivare l'istesso. Tu, l'u-gi aga i-xeltu? U-d'gerf. U-d'gerf. Allora, ecco qui avviura, tu ma eva ca i-xeltu? A-gira. A-gira. Ecco qui umu-ellu, e tu ca i-xeltu? U-biccio. U-biccio. Ecco umu-ellu. Allora, così dì, vi propongo a oa di cominciare a staccare e betse che so non to a o legno. Allora, staccare burro. Andate. Pitiade, vorti, gelo, zorti. Ecco, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, e poi? Oto. Oto, oto, beh, sai odora, vado. No, ah, c'è un'antra, le momica. Staccare burro. Brava. Hop. Adi a pena di figlio, l'an? Saiya. Ecco. Allora, ozite, vi propongo dunque di cominciare a coloris, i vostri animali, ma di coloris e li apiano. D'accordo? Si te capace di rigonoce, e vor me a oa. Allora, gomintiata apia dunque, i gulore, allo, amdemo, zide. Tu, per esempio, gwe a oolpe, e gulore e. Adi a pena... De gwasi arantia da oolpe. Allora, ecco gwe a mina, et tu, bra castagno. Ie, che diso, persifo, dobo, zide. Ozite, ozite des souri moucho a o teatro. Ma, ma gifarano? Ma, di probio e, kwe. Di probio e, ahi, a soji wabunadale, li cercano a entrin' casa zoria. Di benissimo. E tu, ki boliva? E, lo, so badrone. Pa, pu rullare, di adi urre di avro esta gorsa, no? E, 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 benissimo, benissimo. E, lo, faccio a strega. Mi pia di troppo e se travesti tu da gusi. Edeta. Allora, ozite, il, mostrade-mi, kumbe bo verre de dui nanuli ki so persi in foresta, e ki anua beurra, e ki bole nu entrin' casa zoria. Si mu ber, si mu ha disperati. Braui, braui. Allora, reguminciata apena. Reguminciata. Mostrade-mi, kwe bozide berramante ber si ha disperati. Si mu ber, si mu ha disperati. E, benissimo, benissimo. Allora, reguminciata apena. Allora, a owa, mostrade-mi, kwe bozide berramante spaventati, kwe bole aveu. Si mu ber, si mu ha disperati. Allora, andade, andade, burro. Si mu ber, si mu ha disperati. Braui, si mu ha disperati. Ah, bego, giudrawayo avanza proprio e, eh. I gulorizo perramante listesi. Ma, ozide, fa de gazu a kulurishe sempre in de listesi suzen su, eh. Un fa de mican importage. Allora, continuedi. Fa bere, gui. Ozide, ade, visto di no, ki, ci so, ci so, duye, duye, wanda, c'è un ladu e pa un antru ladu, un bine scordade, circa de divalli ste safari di lastra wanda. Magnific. Allora, io mi domandu, perche, perche ki tutti aved e scelto e mine di gulori. Mi buo e dei, perche? Perche se noi si spaviamo, povemo sguassar. Eh, ye, sigur, puoi sguassar, kwe mine. E tu, Sara, perche? Travallo kwe mine di gulori, perche a mina e più fine, e più... E dunque, e dunque, e più pregise, dunque, sa diugami due, eh. Ye, e beh, rai a regio, che così puoi gulori se gume tuboli. Allora, continuedi a pia forma. Allora, ciò ki bada a umanda a wap, perche ki mi driga di uere, guman a esse un'a urta montade, e di lascia, e ostremine di gulori e di gumenti a fa un montame. Bule de gumenti a un montame, per piaget. Oh, sentite, a canto, ki canta. Allora, Zidi, secondo voi, che tipo di musica è? Di un'area tradizionale. Di un'area tradizionale, ma perche? Asa è? E perche che si sente o biolino? Perche si sente o biolino? Ah, e beh, raghi, non ti ho visto via viletta, si sente o biolino. Ma sapete di noi, che si sente, si sente noi oggi è tradizionale. Qual è se so? O asso. O asso. A seconda. A seconda di oggi, che porta il ganto, e dopo chi c'è? E la terza. C'è la terza di oggi, che fiorisce il ganto. Ma Zidi, a me so che mi interessa di va a mi cantare appena. Qual è che mi bo a cantare a mio udia? Ami, canti ovvi lì? Allì. Ami, boi, arriva. Si mi caverto di governo Giulia. Tre, quattro. Oste, a mi va, c'è di? Tre, quattro. Aspetta, aspetta. Che piaudono. Tre, quattro. All'arriva, mon giù. Pio, ora vi si può rivedere altra perché? No, no no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no no, no. No, 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 noi siamo cattini. E' veramente magnifica. Mi piace assai. Allora, accanto... Attenti, è delicato l'affare. Ti lascio rimette. Tu lo già faccio un montaggio e un doggervo. Va bene appena. Che bello, eh? Allora, adivaggi? Metti l'agui. Beghi, mo'appena. Guarda, è assomiglia. Ah, faccio la casca. Aspetta, di una mano. Guarda. E con l'agui. Ah, tu l'ai già montato a doggervo. Guarda, è così bella. Magnifica. Così bella, sa i gira. Brava, Maiva. Si proprio brava. Odidi, sapete, jacobbi, brava. Edanda, a trova a nostra piccola giornalista, Lugia, che ci va a scoprire un bel scorno di Gorsica in due luci respira aria burra. È là un'aù da baura di Ulubu. È andata face una bella spazzillata in avoresta di Wizzawona, tra pini e larghi. Tocca a te, cara Lugia. Oggi, Francine, sono sticchi da come un pino che sei in Wizzawona. In cioada tra o Monte Oro e l'Oriente, mi gompa spazzillà sotto l'arbore da monti. In denoi, è montagna così arte, a resta di minuto e, o banca l'acqua, e a vorresta di nasce vagiule e vagiule. In Wizzawona ci troviamo il voo che ci porta a vrescura e in due esibita a'ira, l'arte, l'onga e l'iumi, a legge che fa di un bel voo, ma è il mio preferito, il l'arte, il nostro famoso bino andemico. Dopo, l'antichità, è sempre stato ricercato questo arbore, con un voo che è lungo e direttivo. Troschi, gregi, romani e bella sigura, genoese e francesi, mi intuèdiano quello re di a vorresta gorsa, con un colore grigio e isobiniante di oggi, si riconosce subito e subito. E, di quando, di quando, se noi siamo fortunati, tipo è musculina a vittiarina, a gelo che campano solo in Corsica, ma bilascio, che c'è chi nasce di noi, folle, che mi arriva a noi a beura. T'arri troati, Francine! A presto, Lugia! Allora, noi abbiamo avanzato nel nostro attello, o montane è compito, e volerebbe domandarti, Lugia, perché hai scelto di andare a Gervodù? Perché mi piace assai, e poi un animale che rappresenta la Corsica. E' bella che rappresenta assai le nostre montagne. E tu, Maiva, perché hai scelto a Gira? Perché è troppo bella, che ha roccio e un piaccio di assai. Ma sapete che assumi a Gwantunque è un altro animale, Gwe? A quale assumi a assai, Radino? Un altro animale? A un scuriolo. Brava, Lugia, assumi a assai a un scuriolo, ma? Ma in Corsica non c'è ne mica. E' bella che in Corsica, non c'è ne trova no mica a scurioli. E dove hai abortato, Lugia? Isaià? Hai due abortato in casa. E in casa? Per ricordo. Com'è un ricordo, hai ragione. Oggi di abito da una volta, si d'està di proprio raio, e a oa mi doca andava a bed e i vostri compagni di teatro. Un partito è mica che do bugemava un nostro idrato, ma ricomando. Alla, oggi di adoro. Ma che si basa qui? È davanzato? Oh, Francina, è davanzato, è. Isai della non immaginata una storia che stituì in anno lì si so persi in foresta do Baogiro di Wabunadale di Gjembre. E anche, è mua obrado a nostra scadoletta parole. Allora? Eh, allora, allora. Tama amostra, ti vuole aiuda? Eh, bella, sicura, che posso vai io? Tu puoi resti va un anno. Eh, vabbè, allora mi metto qui in anno lì qui... Allora, oggi di, mostrè a ma Francina. Allora. Si mua berzi, si mua disperati. Aiuto! Adio vrei. Adio vrei. Adio voltan, vol nordu. È in casa nostra. Mi, 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 fiella sta buona e rijo rijo. Cui... Cui... Cui bignotti... Ah, eh, eh, eh. E chi dice non corti? Cui c'è un po' di gatti da boiânia, ne un po' su moe. Ma, ma va... Cui bera, c'è un po' di gatti. Eh, mostrano, mostrano, che tu sei un po' di gatti. Eh, hai forse, qui... Mi, mi, a strega. Eh, eh... Fa, fa la vignida, du, fa la vignida. Fa la vignida, io ho abbiato circa. Anoka, due bignotti è a scoba. Eh, eh, a strega. Cerca, 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 cerca. Mi, mi. Mi, che sarà Anoka? Cui, un po' di scoba e, infine, due bignotti. Bravissimo. Allora, ci doca a inventare un incantesimo, una vormula. Allora, aspettate. Noca, no... Chocca. Noca, chocca. Noca, chocca. Eh, debacque. Scoba... Boga. Boga. Scoba, boga. Noca, chocca, scoba, boga. E dopo? Pignotti, gotti. Pignotti, gotti. Allora, lavemo. Allora, ci guncantremo. Bene. Posite. Allora, che bule, bari. Eh, so entrude in casa zoia. Ah, infine, siamo voltati in casa nostra. E siamo libri, bari Osideli. Bravi, si d'estadi dremendi, belli a torri, mas a me da oa. Chocca l'homiver ma fame. Eh, dann da troa un nostro garo vano, ki m'aspetté per canta. Anneli, biaggi di canta. Adopo. A beijo, Francine, chanati da va. Cosite, bravi. Sra, bari, gole, bette, barbata. Eh, io vengo a bere a kinesimo di usate l'uiganto. Eh, dann pare da canzone, eh? Eh, Francine, ben imo da ta ca seconda strova. Ah, eh? Eh. Allora, che bi va a fare? Allora, prima che tu vengo, abbiamo trovato la pena in melodia. Sabe appena so che l'usunava suvamo su iulino tradizionale. Eh? Eh, non sa que, abbiamo visto appena da dove lo venia sa musica, di chiedere una musica tradizionale e che si ritrova noi oggi tradizionale. D'accord. Eh, allora, chi vi imo? Allora, ah, voglio spiegare appena se si deli come le struttura da staganzona, come le organizzata. Ah, struttura di staganzona, chi dè una struttura? Allora, sabe quando è un ribillo, quando è una strova, come tutti in cadena. Eh? Allora, spiegare, di appena. Allora, sabe de quanto je stroven di staganzona? C'è quattro struttura. E ribilli, quanto je ne? C'è quattro ribilli. Quattro ribilli, ma ribilli, come è sempre? L'istesso. E per questo che si riconosce, perché è sempre un istesso. Allora, a sabe de qui prima vene a? Struttura. A struttura, dopo un è un ribilli. Ribilli, e dopo un è un? Melodì. Mi vuole deg anta un ribilli, un piégio. Che era babino, babete e babata, ce era si petro, si bucci, si pin. Che era babata, babete e babin, un fan di là, non ho solle e quoi là. Ci sono più forti che me. Ci sono più forti che te, ma sei, mi viene che cosa anche. Mi voglio aiuto appena. A chi fa? Voglio aiuto a un'articulazione di furia, furia. Ah, allora, sei già che ne avevo? Dimitrito. Io mi propongo di vendio. Allora, è muo da va. Allora, è cominciato con Stevano. Tu hai una zona e tu hai una canta in furia in furia. Allora, hai una canta in furia anche. Hai un coutur. Si pronto Stevano. Dove idre? Ti raba raba t'ora al bette barbino. C'è sbagliato. A in testo, ricominciamo. Dove idre? Ti raba raba t'ora al bette barbino. Fa lo biom furio sti. Ma accompagnalo, dove idre? Ti raba raba t'ora al bette barbino. Ti raba t'ora zippetto, si pote, si pino ti raba. È difficile. Allora, il risulta il signo. Fa bokou, Filippo. Non. Allora, te. Dove idre? Tira. Tira barbino barbete barbata. Tira raba t'ora a bette barbino. Tira barbino farreno a guasso e colo. È più forte per noi. Non, 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 non. Il y viene l'articulazione a qualcosa che lo abbiamo chavo proprio. Sara, allora. Allora, te sarah. Si pronto? Dove idre? Tira barbino barbete barbata. Aha! Vediamo che ci sia sempre più grande. Ci sono passi. Ok. Andiamo! A la ricca che cia l'ascienza e le famiglie ... a la ricca che cia l'ascienza e il panico ... Bravo! C'è la faccia Marilin! Parasci a teso? C'è pronta? Di altri? A la ricca che cia l'abiglione ... a la ricca che cia l'ascienza e il panico ... Sop più forti. Non, 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 non. e bambino fanno l'anguasso e qua là Buono Zidè, siete stati proprio rai a cantare questa canzone che direbbe veramente difficile Difficilissimo, Francia Ma dire perché sei un bello professore Allora Zidè, ora vi propongo andare a ritro a Pedro e l'amica per andare a fare un selfie qui ne ide Allora venite con me Andiamo Allora Allora Zidè metti dei winpiassi e ci doca fa i nostri dratti Un bello selfie Allora Allora E me zidi Allora 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 Grazie a tutti.